buongiorno a tutte e a tutte ragazze come state spero bene allora io sto già cominciando a trocarmi perché poi se non si può troppo tardi e nel frattempo questo tanto c'è una bella toccatina questa trattata mi è distorta ok adesso prendo questo la rimel maxi blush che mi trovo bene sia col bronzer che con il blush sono troppo tutte e due aspettate un attimo che mi devo aprire questo faccio così perché se non ce n'è troppo sembro un pagliaccio bene mi piace molto questo blush veramente molto molto carino adesso pure poco poco ops aspettate un secondo che vado con un altro pennello sempre che non mi faccio cadere ops ho messo troppo ok adesso con l'altro pennello della bronzer faccio così ok già se mi riesce no non riesce pazienza bene vado a prendere un po' di qua ok così sono un po' più effetto salute anche se tante salute non ce n'è però vabbè e intanto mi ho fatto le sopracciglia mi ho fatto un po' le ho tolte le occhiaie e niente questo è il mio makeup di stamattina per stare in casa e basta e niente ragazzi questo è tutto mi è caduto tutto aspettate ho fatto un secondo ragazzi mio che mi cade sempre di tutto vabbè niente e che dirvi ragazzi mia questo era il mio look di stamattina nulla di speciale non ho messo maschera perché tanto so sempre con le voce degli occhi col col lirio però questo può essere un trucco tanto per essere più comoda in casa e non dovreste fare troppo col make up ok e niente avete visto il titolo lì perché la batteria si sta scaricando comunque vabbè nulla ragazzi questo era tutto buon proscrivimento a tutti di questa mattina e niente spero che questo video trucco vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like di supporto un commentino e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale ciao ragazzi buona mattina da tutte ciao 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 a proposito ci tenevo a dire che se volete seguirmi su instagram e su tiktok perché non sono sempre attiva ma ci sono tranquille ciao alla presto ciao iscriviti al canale